A Milano tutte le novità di un settore importante dell'ex sport italiano, gli occhiali, Daniela Cuzzolino Berosler. Angoli accattivanti e colori luminosi rappresentano la donna moderna che esibisce il proprio carisma. Come la bella Gigi Hadid sul podio delle testimonial, si lanciano messaggi attraverso un paio di occhiali. E la mostra dell'Iwer Al Mido ospita i più importanti designer al mondo che vengono a produrre in Italia. Glitter a grandi lettere per lei, montatura oversize avvolgente per lui, evoluzione della classica forma rotonda con montatura ultraleggera e il tocco eccentrico del motivo floreale su letti a specchio. Ispirazione anni 90, occhiali da solo in metallo rettangolare o maschere con stampe iconiche dai volumi ingigantiti. Un settore che vive dell'export, il 90% della produzione, 3 miliardi e 700 milioni di euro. La cultura italiana basa il proprio successo e il successo delle proprie esportazioni su prodotti di qualità, con creatività genuina. Noi siamo molto legati alla tradizione e alla cultura. Siamo un'industria votata all'esportazione, quindi sicuramente gli Stati Uniti sono il nostro mercato più importante, dove esportiamo il 25% della nostra produzione. Alla salute degli occhi è data ampia attenzione, ad esempio una nuova tecnologia applicata alle lenti permette di schermare al 100% i raggi UV, anche per gli occhiali da vista. Questo gel sensibile è come fosse il nostro occhio, quindi reagisce alle radiazioni UV. Se noi mettiamo una lente senza protezione UV, il gel si colora, cioè significa che le radiazioni UV passano completamente. Se invece la lente protegge completamente dalle radiazioni UV, il gel rimane chiaro, vuol dire che l'occhio è protetto dalle radiazioni. Fra le curiosità, la collezione High Luxury con lenti Blue Block, che proteggono dalle radiazioni nocive. L'occhiale storico, riprodotto da un'azienda che compie 140 anni. Il più glamour di tutti, in oro, 23 carati, lavorato come il pizzo, sarà presentato al Festival del Cinema di Cannes. Per dire Made in Italy, c'è anche chi abbina occhiali ad un piatto di pasto alla pizza, ma questa è un'altra storia.